Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento di metà giornata con l'informazione di Icaro Tg. Riprendiamo le notizie di cronaca che hanno segnato il ferragosto, come questo accoltellamento all'alba in un appartamento di Rivazzurra. È in corso di ricostruzione la dinamica dei fatti. L'aggressione avvenuta ieri all'alba in un condominio in via Lecce a Rivazzurra durante una lite tra due uomini di nazionalità italiana è saltato fuori un coltello con cui l'aggressore ha raggiunto ripetutamente la vittima. Gravi le ferite per l'uomo in particolare alle braccia. Dalle prime informazioni pare che i due uomini si conoscessero. L'accoltellatore poi sarebbe scappato prima dell'arrivo dei carabinieri, quindi al momento ancora in fuga. Ma i carabinieri sono sulle sue tracce. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale l'uomo ferito. E purtroppo anche nel giorno di ferragosto c'è stato un malore fatale in acqua. È successo a Riccione. L'uomo era ospite del bagno 115. Un 78enne della provincia di Bologna ha avuto un malore mentre si trovava circa 10-15 metri dalla riva. È stato subito soccorso dai bagnini di salvataggio che gli hanno praticato le manovre di rianimazione fino all'arrivo del 118. Purtroppo, nonostante i lunghi tentativi, il cuore dell'uomo non ha ripreso a battere. La perdita di gas da una bombola ha provocato l'esplosione in un appartamento nel seminterrato di una abitazione in via delle fonti romane a Rimini, una traversa di via San Lorenzo Monte in zona Covignano. Lo scoppio è avvenuto ieri intorno alle 13.30. All'interno in quel momento c'era l'inquilino, un ragazzo africano che è rimasto ustionato ma miracolosamente vivo. Dopo le prime cure dei sanitari sul posto è stato trasferito dal 118 all'ospedale Bufalini di Cesena. L'immobile ha subito danni e i vigili del fuoco, dopo aver messo il luogo in sicurezza, hanno appunto cominciato le valutazioni sull'agibilità sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Ed è successo anche un episodio in A14. Una coppia di anziani che stava viaggiando con una Golf Serie 4 tra Rimini Sud e Riccione se l'è vista brutta quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava. In pochi secondi fiamme e fumo hanno invaso la carreggiata. Fiamme e fumo che sono uscite appunto dalla Golf, il fuoco ha anche raggiunto le sterpaglie a lato strada. Subito sono arrivati i vigili del fuoco, incolumi i due passeggeri. C'è stato un leggero rallentamento durante le operazioni appunto di soccorso e di rimozione dell'autoveicolo. Il primo ferragosto, festa di Maria Assunta a Rimini per il Vescovo Anselmi, è stato un ferragosto impegnativo. C'è stata lunedì sera la Santa Messa con la processione a Viserbella dove la parrocchia è intitolata appunto a Maria Assunta. Poi ieri mattina la Messa all'Alba al Bagno 62 di Rimini con un migliaio di persone che hanno partecipato appunto alla Messa che il Vescovo ha concelebrato col vicario Don Maurizio Fabri, con Don Tarcisio Tamburini del villaggio Primo Maggio, Don Giampaolo Rocchi, il parroco dei Padulli, Don Romano Nicolini e diversi diaconi tra cui il padrone di casa del Bagno 62 Mauro Vanni che è diacono e responsabile della pastorale del turismo. Come detto tante persone e poi ieri pomeriggio c'è stata la partecipazione alla Messa per la festa della Madonna di Saiano, una tradizione appunto per il giorno di ferragosto che vede la partecipazione di tanti fedeli. Vediamo. Oggi è una bellissima festa diciamo così per tutta la Chiesa Cattolica ma sentita anche da tutto il mondo anche laico, l'assunto a ferragosto nel cuore dell'estate e quindi si festeggia anche insieme alla Vergine Maria e diciamo così un tempo anche di tradizionalmente di gioia, di rilassatezza, di familiarità e qui a Saiano che è uno un luogo sostanzialmente di preghiera, sostanzialmente di preghiera dove le persone possono raccogliere, far riposare il cuore, mi sembra particolarmente bello, ecco che la Madonna così che è una maestra di accoglienza come tutte le donne, come tutte le madri accoglie tante persone, qui ringrazio anche Don Osvaldo per questo tono che ha dato a questo santuario che io ho in subito La solennità dell'assunta qua su a Saiano ha delle radici antichissime, secolari, è sempre stato un momento molto frequentato, dalla processione alle sei e mezzo al mattino con 300 e passa persone e la messa alle sette e un quarto con la chiesa piena, il prato altrettanto pieno e poi quest'anno la bellissima celebrazione delle dieci col Vescovo. Questa mattina è stata, durante la Santa Messa, è stata battezzata Brigitte Maria, la sua mamma è incinta, è partita per uno di questi viaggi della speranza direzione Lampedusa e nel frattempo è nata e la mamma è stata invece uccisa, per cui è una una storia pazzesca, una storia, siamo sicuri anche di benedizione in cui l'amore di Dio si fa sentire, deve farsi sentire direttamente nella persona di Brigitte Maria, oggi battezzata, del papà ma anche attraverso di noi. Parliamo di meteo perché continua a fare caldo, continuerà anche nei prossimi giorni e se rispetto alla precedente ondata, quella che ha visto temperature molto alte, le massime saranno inferiori di qualche grado, si farà sentire però il disagio bioclimatico. Nella mappa del rischio calore di Arpa appunto vediamo che la provincia di Rimini oggi e domani è fuori dalla fascia di disagio, il disagio che è debole sulla pianura emiliana, mentre venerdì cambierà la situazione di disagio e quindi di un livello superiore arancione nella pianura emiliana, la provincia di Rimini vedrà appunto una situazione di debole disagio sulla pianura mentre le colline saranno comunque esenti. Questo perché? Perché continua appunto questa situazione che vede un calore che è caratterizzato da un forte tasso di umidità, le temperature in questi giorni, le massime sono intorno ai 30 gradi, poi da venerdì potranno arrivare anche a 32 ed è una situazione che potrebbe durare ancora per qualche giorno. Ovviamente ne parleremo nei prossimi giorni, comunque nello specifico vediamo dal sito dell'Arpa cielo sereno, poco nuvoloso per tutte le prossime giornate. La tendenza poi da sabato 19 a martedì 22 agosto, il progressivo rafforzamento di un campo di alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare con valori che dalla giornata di domenica potrebbero localmente toccare nelle pianure interne punte di 37 e 38 gradi con condizioni di disagio bioclimatico. È stato un ferragosto buono dal punto di vista meteo, dal punto di vista delle presenze turistiche. Si è parlato di un riempimento non col tutto esaurito come è negli anni d'oro, ma con un tasso ampiamente superiore al 90% grazie soprattutto ai last minute. Sapremo poi anche nei prossimi giorni qualche dato più preciso. Comunque è una stagione che rimane difficile, lo è stata soprattutto a luglio. Ne ha parlato Lucia Renati anche con Davide Cassani, l'ex campione di ciclismo, oggi presidente di APT Emilia Romagna, che è l'ospite della puntata di Oltre Mare in onda oggi alle 18.35 su Icaro TV. Vediamo un passaggio della sua intervista. Eravamo partiti molto bene, i numeri erano quelli pre-Covid, poi le due alluvioni dell'inizio maggio del 16 e 17 ci ha veramente messo in grande difficoltà. Allora, un po' tutta Italia adesso sta vivendo un momento particolare per l'aumento dei prezzi, per la concorrenza che è sempre più spietata. Però noi in Emilia Romagna stiamo soffrendo anche per quell'evento di maggio. No, sicuramente. Ma cosa c'è da migliorare dal punto di vista, cioè per l'Emilia Romagna dal punto di vista del turismo? Cosa si può fare per migliorare? Ma sai, migliorare... I numeri non sono buoni quest'anno. Non sono buoni perché abbiamo perso soprattutto il mese di giugno e per colpa dell'alluvione tante defezioni ci sono state. Però dobbiamo continuare con gli eventi. Abbiamo un mese di settembre che è straricco di grandi eventi e quindi dobbiamo cercare di lavorare proprio su questo per riacquistare quella fiducia del turista perché a livello di città, di città d'arte, Bologna per dire, sta andando molto bene con una capienza che è intorno al 75-80% degli alberghi. Anche altre città d'arte stanno andando bene. Il problema è un po' la nostra riviera, ma ci sono problemi in Puglia, in Calabria, ci sono problemi in Toscana. È un po' un problema generalizzato. E ogni ferragosto ha il suo caso, il suo dibattito. Quello che è scoppiato a Rimini nel ferragosto di quest'anno è stato appunto un tema che riguarda i ristoranti. Ad aprire il dibattito è stato Gianni Indino, presidente della Confcommercio di Rimini, che ieri su Facebook ha raccontato questo episodio a suo avviso vergognoso. Una coppia di clienti entrando in un ristorante ha chiesto di essere accompagnata al tavolo dove erano ospiti per festeggiare presumibilmente un compleanno. L'uomo aveva una bottiglia in mano e ha chiesto di metterla in fresco. In seguito l'avrebbero aperta per festeggiare con gli altri commensali. Poi molti si scandalizzano, commenta Indino, se un ristoratore fa pagare un piatto per la condivisione del cibo. Riferimento al noto caso dei due euro per un toast diviso che ha fatto parlare in questi giorni a livello nazionale. Ma un pizzico di vergogna mai? Si chiede Indino rivolto appunto a questi clienti e a questo post sono arrivati tanti commenti da chi prendeva le parti dei ristoratori, chi dei clienti, chi invitava a distinguere i singoli casi oppure a fare come si fa in Europa dove c'è la possibilità ad esempio di portarsi bottiglie da casa ma dove ha la facoltà a sua discrezione il ristoratore di applicare una piccola aggiunta per il servizio. E quindi diciamo non si è trovato un accordo ma evidentemente questo è anche un tema interessante per capire dov'è il confine tra il diritto all'ospitalità, all'accoglienza di chi vive di turismo e anche dov'è il limite delle pretese da parte di un cliente. Trovate sul nostro sito newsrimini.it, molti hanno anche fatto il collegamento con la nota scena della prunella Ballor che Fantozzi e Filini portano al nightclub dell'Ippopotamo subito diciamo così stoppati dal geometra Calboni, un po' per metterla anche sul ridere ma trovate anche ovviamente oltre al post su Facebook di Indino anche sul nostro sito se volete leggerne di più. Ci sono stati tanti eventi in questi giorni, uno tra i più tradizionali della nostra provincia è la Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi a Montescudo che si è svolta lo scorso fine settimana. Vediamo. Come ogni secondo fine settimana di agosto Montescudo celebra il suo prodotto d'eccellenza con la Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi. Gli stand gastronomici hanno proposto anche quest'anno i rinomati gnocchi in diverse versioni e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate. Ad accompagnare le degustazioni ci sono stati concerti di musica folk, esibizioni di scuole di ballo, DJ e il mercatino dell'artigianato noto come Fiera del Perdono. Oltre alla Patata Montescudese, eccellenza locale a chilometro zero, i visitatori hanno trovato il vino locale, Monte dello Scudo, Sangiovese e Superiore Doc, l'olio, i funghi, il miele, le terracotte e la manifattura locale artigianale come le tele stampate a ruggine, con l'effetto speciale del panorama della costa riminese visto dalle colline. Questo a Montescudo, una notizia arrivata da poco, il resoconto di un incidente che è avvenuto questa mattina sulla satale Adriatica all'incrocio con via Verenine Graffia dove è in corso il cantiere per la nuova rotatoria, stiamo parlando del territorio di Viserbella. Un conducente ha perso il controllo di un'auto, sfondando la rete arancione del cantiere sul lato mare della strada, l'auto ha fatto un testa coda, finendo nel cantiere, rompendo tre recinzioni e fermandosi vicino alla rete, all'estremo opposto. Nessun coinvolgimento con altri veicoli, feriti quattro giovani che erano all'interno del veicolo, all'inizio pareva con lesioni gravi, poi tutti classificati con codice giallo. Tre passeggeri sono stati portati al pronto soccorso di Cesena, il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Rimini da dove si è poi allontanato rifiutando le cure. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Siamo in conclusione, vi ricordo le edizioni serali del nostro telegiornale alle 19.15.20.15. Vi ricordo il nostro sito Icaro Play e l'app di Icaro Play per rivedere i nostri contenuti video e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e ancora l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.